Sono dietro le bambine di Forza Nuova, diciamo che sono quelli di Forza Nuova che hanno detto chiaramente che sono contrari a qualsiasi modello di accoglienza, allora quello è un altro discorso. Perché se vogliamo ragionare, io ragiono con i cittadini che vogliono discutere, sono disposta a dire dove c'è il problema va risolto, ma sono anche... Cioè, con retta sì ma a bordo mezzanone no? No, no, i problemi ci sono anche, perché quello che loro hanno raccontato non è un fatto che vada sottovalutato, se ci sono stati quegli episodi. Ecco, adesso infatti andiamo con Alessio Justo e rivediamo questi problemi. Alessio! Sì, eccoci qua, questo ragazzo mi raccontava che lui...